Finalmente è arrivato il sole sulla nostra regione dopo tante giornate con copertura nuvolosa e piogge abbondanti. La situazione del satellite ci mostra appena la presenza di un po' di nuvolosità in quota, dovuta ancora alla flusso di correnti nord-orientali a tratti un po' umide, solo negli strati più alti dell'atmosfera, nei bassi strati l'aria un po' più secca. La tendenza nella situazione per i prossimi giorni, c'è una rimonta anticiclonica che arriva dall'Europa occidentale, ma siamo sempre un po' disturbati da una circolazione depressionaria residua sull'Italia meridionale che porterà anche nei prossimi giorni correnti a tratti umide negli strati più alti dell'atmosfera. Le previsioni per sabato, al mattino bel tempo, c'è sereno poco nuvoloso su tutta la regione, in giornata un po' di variabilità, è possibile qualche locale rovescio, qualche locale temporale, seppure con bassa probabilità nelle ore pomeridiane. Temperature in crescita con valori che saranno intorno ai 26-27 gradi sulla pianura, un po' meno sulla costa, valori intorno ai 22-23 gradi per effetto delle brezze. Domenica avremo condizioni buone al mattino, cielo sereno poco nuvoloso, ma nel pomeriggio anche stavolta di nuovo cielo variabile e possibili rovescio temporali. La probabilità è un po' più alta per il pomeriggio di domenica, visto che le temperature saranno anche in aumento, avremo valori intorno ai 28-29 gradi in pianura e sulla costa sempre un po' meno con le brezze, c'è un po' di instabilità dovuta anche a tanta umidità ancora presente nell'atmosfera. La tendenza per lunedì e per martedì, situazione simile a quella di domenica, sempre giornate soleggiate ma con variabilità pomeridiana e con probabili rovesci sempre nel pomeriggio sera. Buon fine settimana a tutti! Grazie!